Hai gabito Hai gabito Sì ma m'ha ucciso Hai gabito M'ha ucciso quella cosa Sì erano Luca e Paolo no? Hai capito I big camera cafe jokes Sì 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 Merda 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 Sì Piedi Strada montana Allora Io faccio i saltini Poi mettiamo che qualcuno rimanga intrappolato qui Ma mi spieghi una cosa Vai indietro Vai Di nuovo i saltini Ok A parte quello Vai su Non lo so Come cazzo si dovrebbe entrare Qui c'è un fiore che non posso Traversare Non È troppo forte Qua non posso passare No non si può arrivare in quella casa Non si può proprio arrivare This must be the work of an enemies Ando Ho ancora quelli Santo Dio Tu Tu sei alp vero? Mi hanno detto cosa fai Arg Arg Cos'è? Il tipo di torneo Di Yugi Lare Eh ma Sai Liano Stratos Rip Non la farai franca Io ti fermerò A costo della mia stessa esistenza Vita era troppo Lupe Da scrivere Eh a quanto pare Sì Scagnozzo Diego La gente non può capire La gente non può capire Le nostre risate Ehi tu conosci quegli tizi Che hai sfidato Sai sono dei veri prepotenti Hai ricevuto Nana Berry Un related Ti servirà Ora scopri che una di quelle bacche Che usi per le poche belle Che stronzo Ma tu stai ancora mangiando biscotti O ci sei? Perfetto Aia Dio santo Guarda un testicolo a livello 5 Ma mi spieghi quei morti Non lo so Guarda tra l'altro Anche qui ha sbagliato A mettere la roccia Eh però Non dobbiamo Insultare Reliquia Gotica Perché è una delle prime Hack complete italiane Sì perché l'hai completata In due giorni Ah che caldo Troppo caldo Denudati Perni Manca bianca In Australia Esatto I tamponi Ma pensavo fosse in America Io Non penso Si scriva così Comunque No vabbè Hai riconosci il mio urlo? Ma si Ma si Era proprio quello E invece Faccio io mi rifiuto No Si io mi rifiuto Di continuare questa serie No ora la portiamo a termine E non rompi E invece E invece Oh santo Dio Rossoropoli Eh Il coso Vuoi vedere La stanza spesa del vuoto Cos'è Skylope? Vuoi vedere due cose belle? Stai zitto Non c'è Skylope Questo Sì Aspetta eh Guarda Adesso facciamo uno velocizzato Quazzo Comunque quella lì è Skyloft Che merda Sinceramente Che disastro Spero che la gente che abitava qui Si sia salvata tutta Guardate Tere spettatori Qui la stazione Rossoropoli Drastica Guardate la montagna Ma non era Rossoropoli Due secondi fa Finalmente Halp Corri la Optin Meteorology Dove lavora tuo padre E' stata assalita Da un gruppo di scienziati Scienziati Pazzi Scienziati? Pazzi? Si Halp Si chiamano Team N N was leaked Here's home Madafaka Esatto A capo del team C'è uno scienziato Scienziato malvagio Ha rapito i nostri collaboratori E tuo padre Però io per qualche strana ragione Sono ancora qui Me ne sto scappando Vuole costringerli a lavorare per lui Per i suoi loschi piani Devi fermarlo Halp Contiamo tutti su di te Ora devo Che cazzo sei lì a fare? Eh appunto Ora devo tornare al laboratorio Non si sa mai Mi scappa Che schifo di male Perché è scappato in mezzo agli alberi? Ah non lo so C'è un Pikachu triste Eh vedete Adessere bloccato là Sta andando a salvare La Opti in meteorology Bene ma prima Allenati un Aspetta vado Vado a fare un funerale all'italiano Cosa? E anche a te Jack G Al 26 Al 26 Muori Se no mi uccide lui Ok ora vai Grazie Stronzo Ti copio Guarda Maniaco Bruco Kent Ma mi spieghi com'è Passiamo dal livello 20 Al 26 Ti pare facile? Sì Coso? Ti propongo una cosa Facciamo i cheater Io propongo una cosa No non chiudo Guarda come facciamo i cheater Che Pokémon vorresti in squadra? Dark Lugia Ok Bastardo È loccata Oh che peccato Adesso non potremo più andare avanti Perché non avrei mica voglia di allenarti E se interrompessimo qui E la prossima volta andassimo avanti Dopo che mi sono allenato No Sì Sì Non saluti Aaaaaah 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 Grazie Grazie Grazie